Procedono senza sosta i tamponi rapidi a Montecchio di Vallefoglia nella palestra comunale Palavitri di Via Guidi dove dal 16 gennaio scorso si stanno effettuando gli screening gratuiti di massa fondamentali per individuare ed isolare il virus da Covid-19 nei soggetti asintomatici. Il servizio rientra all'interno della grande operazione avviata dalla regione nel dicembre scorso rivolta a tutta la popolazione marchigiana. Il sindaco di Vallefoglia Palmiero Ucchielli sabato è stato uno dei primi a sottoporsi al tampone e questa mattina davanti alle telecamere di Fano TV ha voluto fare il punto della situazione. Una buona partecipazione e consideriamo che qui gran parte delle aziende avevano già fatto i tamponi dove c'era un caso e pur nei laboratori privati però avevano fatto i tamponi. Mi pare che oltre 3 mila persone passa da sabato mattina, io l'ho fatta alle 8, già c'era la fila e sabato, domenica, lunedì, martedì e oggi che è mercoledì fino a domani sera alle 19. Una buona, corretta partecipazione. I casi non sono stati tanti quelli positivi che comunque come prevenzione vengono isolati così non infettano altri. Speriamo che tanta altra gente partecipi e che quindi si arriva ad una percentuale che sarà oltre il 15% secondo me che è un dato se consideriamo tutti quelli che abbiamo fatto che è un buon 30% perché già tanta gente l'aveva fatta. Quindi pensiamo che sia un fatto estremamente positivo. Le operazioni fino ad oggi sono proseguite in maniera ottimale, non si sono create code. L'invito per i cittadini che non si sono ancora presentati è di ricarsi al palavitri domani, ultimo giorno di screening. I cancelli saranno aperti dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Abbiamo un sito con moltissime postazioni. L'affluenza un pochino ci ha deluso nel senso che rispetto agli altri siti delle fasi precedenti si registra un lieve calo in percentuale rispetto alla potenziale affluenza calcolata sul bacino di utenze. La percentuale dei positivi è la stessa, inferiore all'1%.